Sì, io ho fatto praticamente l'elementari e la prima media in Puglia, l'istruzione. Secondo me l'istruzione, la scuola al nord è molto, cioè i ragazzi sono molto più seguiti, ma non per colpa dei professori, è proprio una questione penso di cultura, c'è molto meno ragazzi che vanno, che sono per strada piuttosto che andare a scuola al sud. Invece al nord quasi tutti vanno a scuola, quasi tutti fanno uno sport, comunque lo sport è aggregazione, confronto, stare con gli altri. Mentre al sud giocano tutti per strada, io ho giocato per strada fino a 12 anni. Quindi questa è la cultura e l'aggregazione.